Siamo pronti a rivolgersi alla consulta perché è l'argomento con cui 8 miliardi per la sanità destinati in modo consolidato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con le regioni che si sono messe d'accordo come ripartirsi fondi, la Toscana 453 milioni, che hanno sviluppato in questi tre anni progetti arrivando alla consegna dei lavori. Io nell'ultimo mese ho consegnato 20 progetti alla ditta a giudicataria dell'appalto riferiti a case di comunità, ospedali di comunità e soprattutto a rifiacimenti di ospedali attraverso i fondi dell'antisismica. Il vedere questi fondi improvvisamente deviati verso altre funzioni e tagliati alla sanità non possiamo accettare la risposta ma lì ci metteremo l'articolo 20. Pensate che noi abbiamo approvato in questi giorni il piano dell'articolo 20 che sarebbe l'articolo che si riferisce alla legge 67 del 1989 che erano stanziati nel 2019, cioè l'articolo 20 è una procedura che ci porta a realizzare ora ciò che è stato pianificato e approvato 5 anni fa, quindi perché portare dal PNNR dove invece ci sono scadenze precise e capacità di realizzazione a quello che è il flusso ordinario di finanziamenti per l'edilizia sanitaria ospedaliere ed estraospedaliera? Nella sostanza si tratta di un taglio, si tratta di mettere dalla corsia di sorpasso alla corsia d'emergenza quello che sono in Italia realizzazioni per un miliardo e mezzo di euro. Ecco perché la reazione che è quella di dire noi andiamo alla Corte Costituzionale non è solo una reazione politica ma l'hanno sottoscritta i 20 governatori di ogni orientamento politico e io spero che sotto questo aspetto il governo dia una risposta costruttiva.